Domenica scorsa è terminato il servizio dei battelli sul ramo lecchese del lago di Como. Un servizio che quest'anno ha visto, come dire, una inaspettata e gradita coda. Normalmente con il mese di ottobre finiva questo servizio, invece quest'anno in forma sperimentale la navigazione ha prolungato di un qualche giorno il servizio. Se è solo, anche se è solo nei giorni di festivi di sabato e domenica, ha avuto un discreto successo. Molta gente non era al corrente di questo, però l'afflusso dei turisti c'è stato. Va segnalato che durante tutta la stagione i battelli quest'anno sono stati, come dire, spesso presi d'assalto dai turisti per vedere le bellezze del lago, come diceva un vecchio sport della navigazione, veri il lago dal lago. Comunque adesso si rimanda tutto alla prossima primavera e si spera che la navigazione, visto anche i positivi risultati di questo esperimento di prolungamento fino a domenica scorsa dei servizi di navigazione sul lago, possa per la prossima stagione e per il prossimo autunno studiare iniziative simili e magari, come dire, incentivare l'uso del battello. Ricordiamo infine che è possibile per i residenti nei comuni del lago di Como, Ramo di Lecco, ovviamente, acquistare biglietti con sconti per i residenti.